un saluto e una cosa al volo mi è stato segnalato questo sito che vediamo in lingua inglese vi lascio il link in fondo alla pagina poi vedrete anche i clienti di questa cosa ma andiamo a vederlo col traduttore automatico a proposito di zfx il detto trova un lavoro che ami e non lavorerai neanche un giorno in vita tua è completamente sbagliato questa azienda crea praticamente le possibilità di lavorare con gli schermi verdi con le tecniche di attrezzatura per per falsificare il volo il volo si intende volare nel vuoto l'attrezzatura con cui viene costruita ma la cosa più importante è o meglio sono i clienti eccoli qua e guardiamo cosa c'è la nasa buona giornata a tutti buone cose state lontani dai social state lontani dai gruppi creano solo confusione i social sono fatti e sono stati progettati sempre e semplicemente per creare ancora più divisioni e dissensi fra le anime degli esseri umani esecutore volante automazione scenica acquista attrezzatura mercato a proposito di zfx e contatti taradà Grazie.